L'obiettivo del nostro programma è rendere un sorriso smaiante nel giorno più importante della vita dei tuoi sposi, cioè il matrimonio. Idealmente il programma potrebbe iniziare anche già da un anno, a partire da un anno del matrimonio, in quanto se prevediamo dei trattamenti ortodontici atti a ripristinare un corretto allineamento e livellamento delle arcate dentali, si potrebbe intraprendere un trattamento ortodontico per questo fine. Ma è fondamentale inquadrare anche gli obiettivi dei futuri sposi dando un sorriso luminescente proprio il giorno del matrimonio, per cui molto importante l'igiene dentale, molto importante anche lo sbiancamento e perché no anche dei manufatti protesici, delle faccette protesiche che possono rendere un sorriso smaiante proprio durante il giorno del matrimonio. Come si accede al programma? Basta chiamare e fissare una visita odontoiatrica presso lo studio odontoiatrica di Verena e Calvino e da lì verrete seguiti da un'assistente specializzata proprio in tale programma, per cui vi guiderà dall'inizio alla fine del vostro percorso con tutte le procedure terapeutiche atte ad ottenere un sorriso smaiante. Grazie a tutti.